Con la vittoria di martedì in Champions League sul Manchester City, José Mourinho spera che il suo Real Madrid abbia invertito la rotta del cattivo avvio di stagione. Il prossimo impegno è il quasi derby contro il Rayo Valenciano, domani in campionato, nel quale i merenghi hanno già perso due gare su quattro. Vi confermo che se la squadra gioca male la colpa è mia, afferma il tecnico nella conferenza stampa della vigilia, mentre se gioca bene il merito è suo. Contro il City, aggiunge Mu, spero che il gruppo abbia trovato le motivazioni e la mentalità giuste per continuare il resto della stagione. Mourinho poi parla anche di futuro, che a suo dire parla inglese. Non posso negare ciò che è chiaro nella mia mente, spiega l'ex allenatore di Porto, Chelsea e Inter. Dopo il Real c'è l'Inghilterra, questo è certo, e alla domanda su quale club preferirebbe risponde così. In Inghilterra tutti, sono rimasto tifoso dei blues, ma sono un professionista.